E' stato un colpo di pistola a porre fine alla vita di Libero Caldari, 69enne pesarese, titolare dell'omonima gioielleria in piazzale Matteotti, che dirigeva da 32 anni. A ritrovarlo, con ancora in mano la sua pistola regolarmente detenuta, riverso nel suo ufficio all'interno della gioielleria, questa mattina, intorno alle 11, la moglie Manuela, che ha chiamato il 118 nel tentativo disperato di salvargli la vita. Ma ai sanitari, giunti sul posto, non è rimasto altro che constatarne il decesso. Ignote al momento le cause, alla base del gesto, nei giorni scorsi la vita e i rapporti dell'uomo sono apparsi normali a chi lo aveva incrociato e con cui ha scambiato qualche parola. Anche questa mattina nulla faceva presagire ciò che da lì a poco si sarebbe verificato. Come di sua abitudine, ogni giorno, pochi momenti prima della tragedia, ha preso un caffè nel solito bar. Sul luogo, gli uomini del comando provinciale dei carabinieri e la polizia scientifica per accertare le dinamiche di quanto accaduto. Ora le decisioni spettano al giudice nelle prossime ore, dopo aver esaminato tutte le carte del caso.